Giuseppe Bursi di Cantina Sette Soli. E arriva direttamente dalla Cantina Sette Soli, altra cantina cooperativa, però questa volta siamo in Sicilia. Oltre che l'augurio di buon compleanno a produttori in Langa, anche il merito di questi 60 anni di cooperazione sul territorio cunese, non solo. Sì, devo dire che è stata una giornata molto interessante, al di là forse delle mie aspettative, nel senso che c'era un parterre veramente importante, è stato un confronto molto significativo fra cooperative e per questo, ripeto, è stato molto interessante per me. Devo dire che ho trovato una realtà cooperativa che in qualche modo somiglia alla nostra, anche se sicuramente, forse anche più avanti rispetto a noi, noi scontiamo un po' un retaggio culturale, dico io, del mondo delle cooperative siciliane. Però ho trovato un'azienda organizzata e soprattutto mi è apprezzato molto il fatto che dicevano della consulta che hanno di questi giovani che in qualche modo possono contribuire a dare degli spunti di riflessione rispetto a quello che deve essere il futuro di una cantina. Ecco, la capacità di una cantina si misura nella propria capacità di prevedere quello che sarà il futuro del vino e quindi quali saranno i mercati e su quello chiaramente deve cercare di anticipare i tempi e cercare di essere pronta per poter sopportare quelli che sono gli stress, li chiamo io, di mercato. E oggi è venuto fuori, ecco, se posso dire qualcosa sulla cantina clavesana, credo che sia emerso questo discorso che faceva il Presidente, che hanno poche varietà di uve e quindi rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato potrebbero avere delle difficoltà. Però mi è sembrato che ci fosse proprio tutta l'intenzione di fare un piano varietale che va nella direzione appunto del mercato e credo che questo sarà sicuramente utile per uno sviluppo migliore della cantina di clavesana. Quindi un consiglio da socio esterno per un giorno? Beh, un consiglio sarebbe un po' troppo. Io dico che credo che esistano tutti i presupposti, ma lo dimostra la struttura, lo dimostra il punto vendita, la volontà di questi soci, ripeto, giovani, ma anche del Presidente, che colgono quelli che sono i ragionamenti da fare in prospettiva. Quindi credo che non abbiano bisogno di consigli, ma solo di un in bocca al lupo, perché sono sulla buona strada.